L'Occidente del Nilo Il viaggio alla scoperta di queste magiche isole nel deserto, un viaggio avventuroso ma privo di rischi, richiede un buono spirito di adattamento, la capacità di avvicinarsi con rispetto alle tradizioni ancora intatte e radicate della gente, un'adeguata forma fisica per affrontare variazioni climatiche e lunghe tragitti in auto o fuoristrada adatte alle piste che si percorrono. L'Oasi di Dakla, abitata da oltre 10.000 anni, si trova a sud di una grande scarpata che la protegge e le garantisce una florida agricoltura. Essa è costituita da 16 villaggi caratterizzati da stretti vicoli, casi in argilla più piani con porte e finestre in legno scolpito, minareti con strutture di sostegno in legno di palma. Tra essi il più affascinante è Xar, il più antico, costruito sulle fondamenta di una città romana, ma con un aspetto architettonico che rispecchia il tradizionale stile islamico. Sulla colina di Muzawaka sono state rinvenute oltre 300 tombe, alcune con stupende decorazioni colorate di scene di vita e riti tradizionali. Abitata da una popolazione di discendenza berbera, Siwa è un'oasi tipicamente nordafricana, completamente diversa dalle altre oasi egiziane per tradizioni, usi, costumi e linguaggio. Arroccata su una collina si può ammirare Shali, la città fortezza, che per secoli ha rappresentato l'unica zona abitata dell'oasi. Poco distante si innalza Jebele el-Mawata, la montagna dei morti, che ospita decine di tombe, talune ancora ben conservate. Il tempio dell'oracolo di Ammone, risalente al periodo greco-romano, si trova ad Agurmi, l'insediamento originale dell'oasi, nel centro di un grande palmetto. Famosa tra le limpide fonti che sgorgano dalle rocce nei dintorni, la sorgente del sole o bagno di Cleopatra. Scarsamente popolata, l'oasi di Farafra è rimasta isolata per secoli, conservando così quasi intatte le proprie antichissime tradizioni. Il deserto bianco che circonda l'oasi offre uno degli scenari più spettacolari del deserto occidentale. All'interno dell'oasi, adagiato su una collina, sorge Xar Farafra, l'unico villaggio con le sue case in argilla, dipinte di azzurro e con scene che rappresentano il pellegrinaggio alla Mecca. Caratterizzata da grandi dune sabbiose circondata da colline nere di Quarzite, Baharia è l'oasi più vicina al Cairo. Le sue origini risalgono al Medio Regno, 2040-1782 a.C., quando Baharia controllava le carovane di asini che la collegavano alla Valle del Nilo. Successivamente essa assunse una grande importanza commerciale in quanto principale arteria di traffico da e per l'odierna Libia. Durante il percorso romano vi si stabiliscono numerosi insediamenti cristiani che permangono fino al XVI secolo. Abawiti, centro principale dell'oasi, sono visitabili alcuni luoghi di significativa importanza. I resti di un tempio alessandrino, le tombe di Karati Ilwa e le sorgenti di Bir Matar e Bir El Gaaba. Una recente e sensazionale scoperta archeologica ha portato alla luce numerose tombe del periodo tolemaico che contenevano le mummie dorate. Considerata fin dai tempi più antichi un importante luogo di transito, El Ka'arga è l'oasi più estesa e più importante del deserto occidentale. Essa raggiunge grande prosperità nei periodi romano e cristiano. Tra le testimonianze meglio preservate si distinguono le fortezze di Ain Um Daba Did e Ain Labai La e la necropoli di El Bagawat con le sue 243 cappelle in stile romano-bizzantino o protocopto. Grazie a tutti.